Ti piace il mondo del teatro ma più dal punto di vista della regia. Ti solletica di più l'idea di costruire il tuo spettacolo con la scelta dei costumi, delle musiche, delle scenografie, la direzione degli attori ma soprattutto vuoi raccontare una tua storia attraverso un testo teatrale. Acting Regia con Bruna Laura Filippini è il corso che fa per te. Dall'11 gennaio 2023 alle 18.45 qui a Recitando. Potrai raccontarci la tua storia e costruire il tuo spettacolo. Scrivici segreteria-recitando.it oppure visita il sito www.recitando.it. Ciao!